Partiamo da un mistero, il fatto che succede da sempre forse che un momento comico provochi, lo stesso momento comico provochi la risata 100-200 volte, capi a di vedere un film e quella scena la conosci e ogni volta viene da ridere, tu sei riuscito a capire che cosa c'è dietro questo fenomeno, perché se tu sai già come funziona la scena ridi per l'ennesima volta? No, non è vero, non è esattamente così, ci sono tanti film in cui ero convinto che il pubblico avrebbe riso molto in quella determinata gag, in quella determinata scena, con quel modo di dire quella determinata cosa e il risultato magari non è arrivato, la risata era un sorriso oppure non suscitava quello che dovrebbe suscitare, spesso al contrario capita che una situazione alla quale tu non dai due lire, magari sono spesso situazioni che nascono da improvvisazioni che io faccio durante la recitazione, anche mentre sto girando, io improvviso molto, ecco queste piccole cose improvvisamente creano il boato, e là ti spiazza, quindi il pubblico è spiazzante, spesso quando tu aspetti una cosa, ti aspetti sicuramente di aver fatto 100 con una grande risata, la grande risata non arriva, quando tu dici vabbè questa è una piccola cosetta messa là, improvvisamente c'è una grande risata, c'è un bel boato, questo è il mistero che lega lo schermo con lo spettatore, l'attore con lo spettatore, il pubblico è curioso, però non conosciamo bene i meccanismi di azione, perché se riconoscessimo bene scriveremmo sempre delle commedie dove si dite 120 minuti su 120 minuti, non è così. Metà del film è dell'autore, metà del film è del pubblico, di chi lo vede? No, il film è sempre dell'autore, soltanto che l'autore ogni tanto viene spiazzato da determinate cose, quante volte ho pensato questa è una scena che colpirà, e magari ne ha colpita un'altra, che a mio avviso era notevolmente inferiore, quindi è un meccanismo molto misterioso, quello che si lega da l'attore e lo spettatore, anche una faccia, sono degli attori per esempio che hanno, sono bravissimi, bravissimi, sono due o tre attori che fanno soprattutto teatro, io ritengo immensi. Al cinema quel volto non arriva come arriva a teatro e quindi sono dei volti poco cinematografici, quindi non comunicano quello che dovrebbero comunicare in realtà, con tutto il loro talento, con tutta la loro bravura. Questo è il mistero del cinema, il cinema è pieno di misteri, ecco perché ogni volta che esce un film noi siamo sempre con una certa ansia, perché c'è l'imprevisto nel bene e nel male. Ma c'è qualche scena tua in cui tu non sei uno che si rivede molto, credo. Io mi critico molto. Ma c'è un momento, una scena in cui tu la guardi e ridi ancora, sapendo perfettamente come è nata la scena? Beh, c'è, sì, ci sono dei momenti in cui ci sono dei pezzi di alcuni miei film che mi fanno, io rido poco perché io sono molto severo, ogni volta che vedo una cosa mia sto serio a vedere dove faccio troppo o troppo poco o troppo troppo e allora sono sempre molto critico nei miei confronti. Però ci sono alcune cose che mi sono trovato notevole. Per esempio c'è una sequenza in Gallo Cedrone in cui questo personaggio che è un mitomane, un bipolare, che fa 6.000 lavori in tutto il film, è un cialtrone insomma, in quel momento del film è un agente immobiliare e mostra una casa da vendere a una ragazza che poi nell'arco del film diventerà sua moglie, dalla quale si separeranno subito perché sta insieme con sto pazzo, è una cosa... Beh, è un piano sequenza che dura quasi tre minuti. Là noi stavamo girando in una casa che era veramente pericolante. Il portiere aveva preso una mancia e ha detto vi prego, giratela a mano, fate qui... Quindi la persiana cade veramente. Sì, quindi fate il possibile, fate il possibile, girate il più presto possibile perché se arriva qua il proprietario la casa è pure pericolante, ci potete stare in dieci sopra a sta casa, però fate presto. Allora io chiesi concentrazione massima e feci il percorso insieme col direttore della fotografia, Danilo Desideri, con una macchina a mano di tutto quello, con la Stedi, di tutto quello che io avrei, tutti gli ambienti che avrei attraversato, gli mostro la casa mettendogli in un modo tale, guardi che vista, qua poi volendo lei può buttare giù questo muro, può aprire la finestra, poi può aprire l'altro, poi può buttare giù questo, poi può buttare giù quest'altro e fare un grande arco che poi... E lei mi dice ma scusi ma non è un muro maestro? E lui a un certo punto fa così e dice ma è che è un muro maestro? Perché io conosco una ditta che gli apre, non quattro, ma sette finestre in due ore di notte, lui la mattina si sveglia, qua a vestire, il caffè e il latte, si guarda intorno e dice ma andò cazzo? Allora quella scena che dura tre minuti mentre gli mostra la casa, gli fa intuire quello che sarebbe diventata la casa con i lavori di ristrutturazione, beh quello è un capolavoro di recitazione secondo me, io una cosa così non lo puoi fare. Sì, di regia, sì, di regia abbiamo pensato che la steady e il piano sequenza era la cosa migliore, io l'ho recitato a velocità supersonica, era proprio stata alla sordi, quando sordi nei primi film aveva dei tempi di recitazione veramente velocissimi, rapidissimi e là mi sono trovato veramente bravo, mi sono trovato bravo nelle espressioni, mi sono trovato bravo nei tempi, quello ecco è uno dei pezzi nato da un'emergenza, fate presto, fate presto, se no qua succede un casino, la casa è pericolante, arriva il problema delle case, fammo presto, fammo presto, io con la concentrazione ho fatto la prima buona, ho tentato di fare una seconda, era talmente difficile e complicato che mi sono fermato a metà e ho detto no, non verrà mai più come la prima, che Dio ce la mandi buona e lui mi ha detto speriamo di non averci il pelo in macchina e speriamo che tutto sia andato bene perché se no qua la buttiamo, dico fermiamoci, non ce la faccio, a rifare tre minuti tutti andò bene. Quello rimane sicuramente uno dei miei pezzi di recitazione più belli in assoluto. Un inciso su, perché mentre la raccontavi, credo che tutti noi abbiamo rivisto la scena, avendo visto il film, ma c'è un look particolare in quella scena, tu sei con i capelli neri tirati all'indietro e i Ray-Ban. Assomigli a Venditti in prima maniera. Esatto. Infatti me lo dicevano tutti, mi dicono tutti. Ma Antonello non ha detto nulla. Non ha detto niente, infatti mi dicevano ma a Venditti che ha detto? Dico Venditti in se spresso. Non era voluta la cosa? No, no, è venuta così. Beh, insomma io dovevo fare un attimo, tenere la stempiatura che era mia. Però per ringiovanirmi in qualche modo abbiamo fatto sti capelli tinti, chiaramente, che riporto io, sti Ray-Ban, dovevano essere dieci anni prima, capito? Quindi in qualche modo dovevo ringiovanirmi, quindi sti Ray-Ban, sti capelli così. Però quel personaggio in quella scena là, ma tutto il film è recitato, la grande, ma quella scena là è stata veramente, ogni volta che la vedo rido. Rido perché mi trovo veramente bravo là. Non mi sembro nemmeno desse io. E invece nell'ultimo film, fra l'altro, sta andando benissimo, se si può dire. Sì, sì, andando bene. Qual è la scena in cui tu dici, beh, questo è veramente la raccomando, la scena doc in cui ce ne sono diverse, perché è molto accelerato il film. Io ho recitato in maniera molto... sono stato molto corretto, molto non ho strafatto con le facce. Sono i tempi di recitazione tra me e Elena Pastorelli, la mia commessa. Sono quelli che rendono il film ebrioso, eccetera. Sicuramente l'incontro con le tre donne che io incontrerò su un'applicazione tipo Tinder, queste applicazioni che servono per far sì che due si incontri, non so, applicazioni di chat e di incontri, insomma. E sicuramente, ecco, quei tre momenti con queste tre donne che saranno tre disastri sono sicuramente tra i più divertenti del film. Però al film c'è anche dei momenti di poesia che sono belli, che sono belli, per esempio il momento sulla spiaggia, tra me e lei. E là, insomma, i due personaggi diventano quasi padre e figlia in qualche modo. È molto tenero come film, soprattutto il finale che è un bel abbraccio che do anche al pubblico in qualche modo. È un inno all'amore, è un inno al grande affetto, ecco. A te è capitato per questioni generazionali un fenomeno abbastanza particolare. Nell'immaginario collettivo tu sei il ragazzo di 18, 19, di 20 anni, che poi diventa il 25enne e poi diventa il 30enne. La gente ti considera un po', come tutti gli attori di questa generazione che hanno segnato e che segnano, qualcuno di casa. Quando tu inciampi nel verdone, in prima maniera, ti dà fastidio, ti viene tenerezza? No, no, perché quello sono io. Quello sono io, certamente mi fa un po' impressione il fatto, ma non che io sia cambiato. È il modo di recitazione che cambia, cambia continuamente. E recitavo in un certo modo con i film a più personaggi, davo l'anima a quei personaggi, una certa anima. Ero bravo. Poi dopo sono arrivati i film più intimi. Allora mi riferisco a mia sorella, compagni di scuola, maledetto giorno che ti ho incontrato, al lupo al lupo, per poi tornare a film a personaggi come Viaggi di Nozze, che rimane, secondo me, forse tra i film più importanti, perché non è soltanto un film comico e drammatico, perché non è solo comico quel film, è anche altamente drammatico. Però è un piccolo trattato di sociologia quel film. racconta l'implosione della coppia, la mancanza di sintonia tra uomo e donna, questi Viaggi di Nozze alla fine sono Viaggi verso il disastro, in qualche modo, soprattutto verso la solitudine. Ma io direi però che il tema della solitudine, in qualche modo, è sempre presente nei miei film, è sempre presente, cioè personaggio maschile schiacciato dagli eventi, da una società spesso cinica, spesso un po' cattiva, ma quello fa parte di me. Quando mi hanno definito il melancomico, fu Stefano Reggiani, un brevissimo critico che scriveva sulla stampa, quando coniò questa frase, Carlo Verdone, il melancomico, mi ritrovai molto in quella definizione, malinconia e comicità. Però anche Totò non era diverso, forse era partito, avete avuto delle origini molto più complesse, però anche lui... Totò era un grandissimo, però Totò in tanti film non aveva anima, era una splendida marionetta, splendida, splendida, inarrivabile, era surreale, era avanguardia, avanguardia pura. Ritrova dell'anima grazie poi a Pasolini, con Uccellaccio Uccellini, in altri film, però Totò è un settore a parco. C'è un'occasione perduta. Com'è? È un'occasione perduta. No, Totò ha fatto bene a fare quello che ha fatto, l'ha fatto in maniera sublime. resterà una maschera immortale, immortale, immortale. Facciamo una pausa per la pubblicità, poi riprendiamo. Sì. Piagge di Nozze, fra l'altro, ha avuto un riscontro abbastanza strano, l'ombra di Alberto Sordi che invade un avvocato vero e trasforma il tutto, cioè la realtà, in una farza incredibile. Ti arriva una richiesta di testimonianza su quel film per una storia, anche una tragedia abbastanza brutta. Ci racconti che è successo? È successa una cosa alla quale non stentavo a credere, perché mi ha lasciato veramente basito. Una ragazza muore in Spagna, sembrerebbe, metto il condizionale, perché io non conosco bene la vicenda, perché è precipita da un balcone di un hotel. Allora, sembrerebbe col condizionale che dei ragazzi la stessero inseguendo per una violenza, sembrerebbe. Io uso il condizionale perché io leggo i giornali. Allora, e questa si butta e muore. Quindi una cosa molto grave, molto penosa, molto triste. Cosa fa l'avvocato dei due ragazzi che sono indagati? Sentiamo Carlo Verdone, perché lui in un film, Bianco, Rosso e Verdone, sbaglia film, perché non è Bianco, Rosso e Verdone, Bianco, Rosso e Verdone, è morto nessuno, muore la soradella, decrepa cuore. Il film era in questione dei viaggi di nozze, perché Verdone in una sequenza del film, nel secondo episodio, col marito rompicoglioni che si chiama Raniero e la moglie Fosca, praticamente filma la scena di un suicidio, di lei che monta sulla balconata del terrazzo dell'hotel Danieli e si butta. Allora, lui vuole sapere da me come avevo calcolato la caduta perpendicolare dell'attrice al fine di trovare delle attenuanti per i suoi assistiti. Ma io mi domando, dico, ma non si chiede al regista una cosa del genere, è sbagliata. perché quando io ho delle scene d'azione, ho anche una scena semplice come quella di una persona che si butta di sotto, io a quel punto spiego la scena allo stuntman, al capo stuntman, e gli dico, la scena deve essere così, mentre lui va al frigorifero, parla, 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 lei, colta da un raptus di disperazione, non potendone più di questo, monta sul balcone e si butta di sotto. Lui mi fa, fai fare a me. Questo fa lo stuntman. Prende un materasso, lo mette a due metri e mezzo dalla balconata, e quindi praticamente non si può fare nessun tipo di calcolo, perché la preoccupazione maggiore del capo stuntman, che avrà in mano tutto, perché è tutto delegato a lui, è quella di non far male alla stuntman sua, all'attrice che farà la caduta, alla finta attrice, perché non sarà Veronica Pinetti, sarà un'esperta a fare che lavora con lo stuntman. Quindi deve cadere in un certo modo, ma no, io non rifarò una caduta uguale, una che precipita perfettamente, quella è precipitata per due metri e mezzo, perché c'era un materasso, se non c'era il materasso, cascava per 8 metri, 10 metri, e moriva. Quindi c'è un materasso dopo due metri, però tutti i calcoli lo fa il capo stuntman. Quindi non capisco io come può chiedere la mia testimonianza, o chiami un fisico che ti spiega esattamente, andando come cadrai, bisogna vedere poi questa come è montata, come è venuta sta caduta, ma io cosa ne posso sapere? Quindi mi è sembrata molto bizzarra. Ma come è finita poi? È finita che il giudice non gli ha dato il permesso di chiamarmi, perché è assurdo chiedere a un regista in che modo sarebbe esattamente caduta, come si fa a dire una cosa del genere? A questo punto stai tirando dentro Alberto Sordi, avvocato in troppo forte. Sì, siamo in zona avvocato di Oscar Pettinario in troppo forte, interpretato da Sordi. Un pochino sì, mi è venuto in mente. Insomma, sono rimasto un po' stupito, francamente, però. Senti, Sordi sicuramente verrà nel discorso, però ci sono due personaggi, anche questi molto particolari, perché tu hai una nonna e un suocero, che sono praticamente imbalsamati in linea la memoria collettiva di tutti. La nonna era la sorella di Fabrizio, la sorella e il suocero era Mario Brega. Mario Brega poi in realtà faceva i film con Leone, ma tranne picchiare Clint Eastwood, non è che non diceva una battuta, credo, è diventato attore di rilievo con te. Mario Brega diceva pochissime battute e menava nei film di Leone. O sparava o menava o riempiva di botte il povero Clint Eastwood, o il povero Eli Wallach nel buono, il brutto e il cattivo. Quando Leone decise di produrre i miei primi due film, prima Un sacco bello e poi Bianco, Rosso e Verdone, io stavo a casa sua, ricordo che un giorno si presentò un omone molto grosso, con tutte catene d'oro, disse, vieni Sergio, sono andato ai mercati generali, ho preso questi, guarda che carciofi che sono, guarda, 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 guarda stai melanzana che sono, guarda sti peperoni che sono, guarda stai mele, stai aranci, stai mele, ti ho portato al meglio, perché no, era un abitué di casa Sergio Leone. A un certo punto, sentendo parlare a sto personaggio, gli dissi, Sergio, ma il padre del fricchettone, in un sacco bello, deve essere lui, di che stai a parlare? Dico, sto a parlare che tu forse devi fare una parte con me, che bello, bello. E da allora Mario Brega, da cattivo nei film di Sergio Leone, nei suoi western, è diventato un caratterista comico. Cattivo sempre però. Beh, vabbè, burbero, nei miei film. Quindi ha fatto prima il padre del bambino di Dio, in un sacco bello, ed è molto divertente il contrasto tra quello che parla così e quello che parla, io sono comunista così. Quindi c'era una porgarità da una parte e un figlio un tomistico dall'altra. In Bianco, Rosso e Verdone faceva parte di un camionista, famosa è stata la scena dell'iniezione poi a mia nonna che è sola Lella, Fabrizi, poi ha rifatto un'altra parte in Borotalco, faceva... Ma faticavi a gestire tutti e due insieme? Erano personaggi di un certo peso, non solo fisico. Era faticoso, era faticoso, perché poi lui voleva che io lo prendessi in ogni film, ma non era possibile. Allora poi è arrivato l'odio nei miei confronti. Prima il grande amore, quei tanti regali, poi Verdone, ma scazzone, perché non me prende più, non me fa fa... Prima e poi erano odi, 20, adesso sono 10, poi sono tre. Ci sono delle persone che, capito, ogni tanto vanno in fissa col cinema e quindi... Invece a Sorarella non gli interessava? No, Sorarella era un amore, aveva un carattere molto più semplice. Sorarella è stata, diciamo, la vera matrona romana, la vera matrona romana, perché era un personaggio che era nato tra i banchi di Campodifiori, il grande mercato che c'era una volta a Campodifiori. E Sorarella fa parte anche di quella Roma in bianco e nero, quella grande Roma che è stata... che ha dato anche tanti caratteristi, tanto popolo, dal neuralismo in poi, no? Quando gli attori venivano presi proprio dalla strada, facevano... C'era la presa diretta con la voce veramente loro e sono contento di aver utilizzato, di essere stato forse l'unico ad aver utilizzato gli ultimi grandi caratteristi del cinema italiano, perché Mario Brega fu un ottimo caratterista per i miei film si comportò... fu molto efficace. Elena Fabrizi fu veramente l'ultima grande caratterista e ci metterei anche Angelo Infanti, bell'uomo, però che anche lui fece il ruolo di un caratterista di un certo livello, ecco. Quindi lavorando e poi tanti generici che venivano addirittura dal neorealismo, li ho ancora utilizzati, erano anziani, però era ancora una Roma quella a cavallo tra la fine del bianco e nero all'inizio del cinema a colori, insomma, era ancora una Roma di Trastevere che ancora si parlava da finestra a finestra, c'era una vita di quartiere, i teatri, le strade erano dei sette in qualche modo, erano dei teatri, quindi era facile. Io prendevo tutti malandrini, quello è un scippatore, lo prendevo perché c'era una bella faccia, la contrabbandiera la prendevo perché c'era un'altra bella faccia, era quella Roma un po' scoglionata, un po' la Roma di Trastevere che non esiste più, che non c'è più. C'era anche un senso della battuta immediata dell'umorismo, io ricordo proprio a Trastevere, ma perché non c'era cattiveria, oggi c'è di... però l'umorismo era cattivo. Vabbè, però era sempre uno sfottore in qualche modo. Oggi c'è più odio, oggi c'è odio, oggi c'è odio perché c'è sempre, come posso dire, c'è diffidenza, ci si parla sempre meno da finestra a finestra, si è sempre diffidenti, perché i Romani Veri sono stati trasferiti in altre località tipo Corviale, tipo il Laurentino 38, Torbella Monaca, non abitano più in quello che era, una volta era il vero centro storico popolare del Belli, che era Trastevere, non ci stanno più, la Roma è cambiata, è cambiato tutto. Era la Roma del Belli. Era la Roma del Belli. Ricordo, ti dicevo, un tizio a cui avevano tagliato un orecchio, gente appunto di quella Trastevere lì che veniva chiamato regolarmente Ertazzina, che è abbastanza agghiacciante se uno ci pensa. Sì, è sempre stato lo spirito molto tagliente dei Romani, però che deriva in qualche modo sempre dalle grandi osservazioni di Giochino Belli. È quello. È sempre stato la Bibbia per noi in qualche modo. E non è cambiata molto da quel punto di vista questo atteggiamento romano vero del non prendere sul serio troppo le cose o no, secondo te? quello che si trova ancora oggi. Diciamo così che quel DNA in qualche modo... Forse allo stadio è rimasta qualcosa del genere. Il DNA qualcosa è rimasto, però sta cambiando molto questa città. Questa città è cambiata molto e c'è molto più esaurimento nervoso, c'è molta più disillusione, c'è molto meno tempo per soffermarti a guardare quanta bellezza c'è intorno a te e questa bellezza spesso è non curata. Questo è il dolore grosso che provano i veri romani nel vedere una Roma trascurata, priva di manutenzione, con le solite beghe, i soliti problemi, spesso con delle persone incapaci, ma perché la burocrazia crea corruzione, gli stati più corrotti sono quelli dove abbondano le leggi, dicevano i latini, no? È così. C'è però un luogo di Roma quando tu hai voglia di ritrovare un po' te stesso, dove vai? Il Gianicolo. Ce l'avevi a due passi quando eri bambino? E ce l'ho ancora più vicino qua. Adesso è ancora più vicino. Sì, il Gianicolo mi piace perché mi ricorda tutta la mia adolescenza che è stata meravigliosa, è stata un'adolescenza veramente bellissima e quindi con una governante che portava a me, mio fratello, mia sorella la piccolissima, al Gianicolo perché c'era il teatrino di Bulcinella che io ero proprio il primo spettatore di quel teatrino. A quanto ha inciso quel teatrino? Quel teatrino ha inciso tanto perché mi faceva mi faceva tanto ridere la voce di Bulcinella, mi faceva tanto ridere la voce del diavolo, della morte, sti duelli con quei bastoni, le cose e mi piaceva proprio quest'arte del burattinaio tant'è che io nel 1970 entrai a far parte della compagnia dell'opera d'arte dei burattini di Maria Signorelli che è stata una grandissima, raffinatissima burattinaia. Quindi i miei primi passi io li ho fatti all'interno di un teatro di burattini dove il weekend si facevano spettacoli per bambini, gli spettatori più difficili del mondo perché ti interrompono lo spettacolo, ti fanno le domande, interagiscono col pupazzo che stai muovendo. Quindi è un bel allenamento. È una bella scuola. Incominci a modulare le voci, a fabbricare delle voci nuove, a dare carattere, temperamento, anima ai vari pupazzi. e poi facevamo anche spettacoli per adulti. Andavamo anche al Festival di Spoleto e c'erano delle forme astratte, delle figure astratte. Fu due anni e mezzo molto interessanti, molto formativi. Fa venire in mente una cosa che mi diceva una volta Bonolis. Bonolis ha cominciato facendo la tv dei ragazzi. Diceva se tu riesci a tenere in televisione i bambini puoi andare ovunque. Sì, i bambini sicuramente è un pubblico complicato che ti porta a dover essere sempre sveglio, sempre con la risposta pronta, sempre a dover inventare qualcosa al momento perché è un pubblico spiazzante che ti interrompe continuamente, interagisce perché loro non vedono il burattino per loro è vivente in quel momento quindi gli deve rispondere a una domanda e questo chiaramente è utile per chi inizia il rapporto con lo spettatore. L'ultima pausa poi torniamo fra noi. Carlo, secondo te c'è una parentela fra te e Clint Eastwood perché in fondo siete gli unici due Magari No, perché a pensarci Leone ti ha preso come si può dire sotto la sua ala e ti ha fatto crescere ma Clint Eastwood se non avesse lavorato con Leone sarebbe un grande regista in fondo alla fine della fiera voglio dire è possibile che siete gli unici due eredi di Leone paradossalmente? la prendiamo molto alla larga e però siamo stati due attori lui è un attore chiaramente super internazionale è un bravo regista anche se l'ultimo film è minore rispetto agli altri è un grande regista però abbiamo avuto tutte e due la fortuna di essere stati esaltati io nel mio piccolo mondo comico lui nel suo mondo epico interpretando quel personaggio del Monco e quindi siamo stati esaltati da un grande produttore e un grande regista ci ha accomunato il destino di aver iniziato con Sergio Leone e cioè Sergio Leone ha portato una buona stella in tutte e due lui l'ha fatto diventare un bravo ancora di più un bravo attore e soprattutto un inaspettato regista bravo bravo regista inaspettato e a me mi ha consentito di esordire e la cosa più bella secondo me è che dopo quarant'anni di attività sto ancora qua a far film e mi sembra una cosa veramente un dono del destino veramente incredibile il mondo dello spettacolo non consente blef poi alla fine perché non ti perdona niente il mondo dello spettacolo è molto pericoloso è molto pericoloso perché è un mondo è un mondo che non ti perdona nulla perché tu quando fai un film stai maneggiando smaneggiando molti soldi e li devi riportare a casa quei soldi ma non solo devi far guadagnare se tu non fai guadagnare tu non duri molto come attore se tu non hai un riscontro in qualche modo da parte del pubblico non vai avanti ecco una delle cose delle quali vado più fiero è questa io non ho mai fatto rimettere un produttore in tutta la mia carriera c'è stato soltanto un film dove io non ho fatto al bottichino un grosso risultato però ho riportato in pari cioè non è perso e loro hanno guadagnato però hanno guadagnato rivendendolo in televisione e il film era c'era un cinese in coma che a rivederlo oggi è un bel film ma all'epoca non andò cioè non andò i casi sono due perché può succedere o il pubblico l'aveva trovato una commedia non molto da ridere perché era una commedia molto amara c'erano delle risate però erano risate molto cattive molto perfide oppure più semplicemente il pubblico si era stancato c'era un momento di stanca e ci può stare dopo tanti anni che il pubblico si stanca c'è ci può stare e poi riscoprire allora che cosa devi fare te se tu sei sicuro di non essere un depresso perché la depressione è la nemica numero uno di un artista se tu sei sicuro di non aver perso il talento di non essere annoiato nel fare questo lavoro eccetera se tu senti invece di essere ancora pieno di stupore pieno di voglia ancora di fare la cosa migliore è questa fermarti far passare un po' di tempo e ripresentarti dopo un po' di tempo di fare la battaglia quindi due anni io sono stato fermo sono sparito però i miei figli ringraziano ancora il cinese in coma perché in quei due anni io mi sono recuperato i miei figli perché avevano un padre che girava sempre i film quindi aveva non tantissimo tempo per loro se non i weekend e con loro sono riuscito a fare dei viaggi meravigliosi e alla fine hanno capito meglio che tipo di padre avevano durante il 2000 e il 2002 che sono stati due anni in cui non ho lavorato ma sono stato con loro siamo stati in America siamo stati in Medio Oriente siamo stati dappertutto nei paesi arabi siamo stati in Nord Europa hanno viaggiato con me e non avevano la pressione di avere il padre che veniva fermato all'epoca non c'erano ancora i selfie per l'autografo per la fotografia fatta con la macchinetta normale no il padre non era conosciuto quindi c'eravano tutto per loro e per me è stato sono stati due anni bellissimi non ho mai avuto paura di aver perso un treno perché mi sentivo sempre pieno pieno di energia pieno di cose da fare ancora ancora studiare ad osservare la realtà la realtà non mi era sfuggita di mano che è la cosa peggiore per un regista quando non sei più in sintonia con il mondo e diventi vecchio perché non non lo racconti più e allora mi sono ripresentato con Ma che colpo abbiamo noi un bel film corale poi abbiamo aumentato il pubblico con l'amore di uno film che è dura poi arriva il momento del mio miglior nemico e Verdone è tornato a fare 21 milioni di euro quindi però poi è strano proprio qualche tempo fa mi Moricone diceva che erano dopo un anno che era uscito sono andati a vedere lui e Sergio Leone per un pugno di dollari e sono tutte e due usciti nauseati dal film dicendo veramente un film orribile questo racconta Moricone quindi è anche difficile poi valutarle non è vero non era un film orribile io non lo so a me piaceva forse erano saturati tutti e tutti ecco ci può essere questa cosa anche io se io rivedo per la due centesima volta un sacco bello anch'io sono nauseato in un certo momento però lascialo dire allo spettatore allo spettatore che è il giudice è il tempo che è il giudice di un film sai ci sono stati dei film che lì per lì non sono stati apprezzati per come dovevano dalla critica io mi riferisco a Bianco Rosso e Verdone Bianco Rosso e Verdone annoiò quasi mi scrissero tutti che era una brutta copia di un sacco bello tutti tranne uno Valerio Caprara disse che era un film pieno di poesia oggi se tu interroghi soprattutto un pubblico giovane ma anche non giovane Bianco Rosso e Verdone è tra i primi tre film miei più amati compagni di scuola quando usci io ricevo dalla segreteria telefonica c'era all'epoca la segreteria telefonica tutti i messaggi che mi dicevano ma sei sei depresso il film è bello ma non si ride tanto tu fai meno ridere ma c'è qualcosa che non va nella tua vita era tutta una preoccupazione per un Carlo Verdone che aveva improvvisamente sterzato di colpo ed era andato su un altro su un altro settore su un'altra strada quella giusta perché era arrivato il momento di far capire che ero anche un autore in qualche modo io puntavo su quel film a dare una prova di buona regia e avevo la bellezza dei 18 attori in quel film tutti pesanti beh insomma era difficile è stato il set più bello della mia vita io sono famoso per mettere sempre di buona atmosfera tutta la mia troupe vive in un'atmosfera ottima molto leggera non si urla mai si sta sempre allegri perché non dobbiamo pensare che abbiamo qualche miliardo qualche milione di euro da gestire ma ci dobbiamo divertire e gli attori danno il massimo quando non sentono la pressione autoritaria della cosa io non sono mai stato autoritario ho sempre stato amico e tifoso dei miei attori ma questo perché Leone si dice fosse molto è una reazione a come dirigeva Leone o anche Leone era no Leone era tutto quel genere di registi erano pesanti erano molto pesanti erano molto esigenti erano molto duseschi erano molto autorevoli troppo autorevoli fino a diventare terrorizzanti l'attore non dà il meglio quando il regista è così l'attore dà il meglio quando c'è una bella atmosfera se sbaglio una cosa il regista gli spiega in maniera pagata riflessiva con affetto quello che deve fare e tutti danno il meglio io sono sempre stato contrario a queste forme estreme che poi è un atteggiamento del regista quello del megafono di urlare di arrabbiarsi ma che bisogno c'è l'importante la cosa più importante questa me la diceva proprio Sergio Leone è quella di non farti venire dubbi mentre stai girando un film farli prima magari di te li fai venire prima i dubbi ma mentre stai girando non devi dare la sensazione di un uomo debole se no la truppa ti sfugge di mano e ti sfuggono anche gli attori di mano devi essere buono affettuoso paziente con tutti però devi avere le idee molto molto chiare non ti devi far vedere fragile non lo devi essere siamo in chiusura c'è un episodio che tu hai raccontato credo nel tuo libro che però colpisce molto un ragazzo timido che su Ponte Sisto che è un ponte importante per Roma sia per la sua nascita come viene costruito ma anche per quello che rappresenta incontra un grande personaggio del cinema che è Gian Maria Volontè che cammina per conto suo e timidamente gli va a fare i complimenti e Volontè ringrazia ed è una scena di cortesia di attenzione ma anche di rispetto reciproco oggi è diventato una cosa incredibile diventa difficile difendersi da un io quella scena me la ricordo benissimo ho visto per un pugno di dollari di Sergio Leone avevo visto per qualche dollaro in più sempre di Sergio Leone con un grande Volontè avevo visto l'indagine di un cittadino di sopra di ogni sospetto per me Gian Maria Volontè era un grande attore con una grande faccia lo stimavo molto mi piaceva molto il giorno mi ricordo era una giornata autunnale c'era un vento quel giorno che sollevava tutte le foglie non c'era nessuno nel Ponte Sisto e vedi vedevo un uomo che camminava scapigliato con i capelli così un po' curvo con un trench io dissi ma quello mi sembra tanto Gian Maria Volontè allora mi avvicinai andai dall'altra parte del Ponte e vedi proprio che era lui allora dissi trova il coraggio io ero molto discreto non allora andai al coraggio signor Volontè signor Volontè lui si sepoltò subito mi fulminò con uno sguardo che mi mise paura sembrava veramente un personaggio di Sergio Leone gli dissi no alzai quasi le mani come dire sono disarmato gli dissi scusi ma io sono un suo ammiratore io vorrei fargli complimenti perché io la seguo dico mi piace e nel western e nel cinema impegnato quindi era solo per dirle questo per darle la mano io la ringrazio allora lui fu carino mi diede la mano mi diede la mano io gliela stile sono molto contento in bocca al luco per tutto anche a lei di nuovo di nuovo dandoci del lei io ero un bambino mi poteva dare un bambino un ragazzetto mi poteva dare anche del tu mi diede del lei fu fu molto poetica questa cosa la cosa incredibile di lì a qualche anno io sono diventato qualcuno e con gli sketch televisivi e soprattutto grazie ai primi primi film mio padre andò a Cuba insieme con il regista argentino Fernando Birri ad aprire la prima scuola di cinema a Cuba presente Fidel Castro furono papà e Birri che praticamente organizzarono tutto il piano didattico insomma misero appunto come doveva essere questa scuola di cinema ma come doveva essere strutturata e tutto e Fidel Castro presente ringraziò la delegazione italiana e argentina quella italiana rappresentata da mio padre con degli attori dei personaggi e quella argentina da Birri a certo punto Fidel Castro dice quindi grazie al professor Mario Verdone perché mio padre era già insegnante di storia e critica del film all'università di Roma la prima catted è stata a certo punto volontè questo vedo il destino che è strano a certo punto come sente e fa scusi scusi a mio padre si volta dica volontè perdone sì sono Mario per il professor perdone ma lei è il figlio di Carlo sì sono io mi fa già i miei complimenti sono un suo ammiratore quando papà è tornato da Cuba e mi ha raccontato questa cosa qua io mi sono emozionato perché ho detto ma pensa te io da piccolo da giovane sono andato là e gli ho detto vi faccio i complimenti ero un grande a distanza di anni volontè a mio padre gli dice ma lei è il papà di Carlo mi faccio i miei complimenti è un bravo attore quando me lo disse dico beh detto da volontè conta di più quindi secondo te una stretta di mano sul ponte sisto o un selfie di oggi la stretta di mano sul ponte sisto e anche perché perché c'è un momento di umanità vera i selfie io li faccio in maniera automatica a Gabbia qua mi dici tu parola a mia sorella che sta a ospedale mi dici tu parola a mia madre che gli sei rotta il femore domani mia figlia c'è esame di bocca al lupo cioè è tutto un prende io so sballottato come un pacco da oggi oggi non c'è più quel religioso rispetto verso la cosa oggi sei uno da prendo da strattonare io mi ricordo un giorno stavo dove ero stavo a Catania stavo facendo un discorso pure abbastanza serio con una persona di lavoro uno mi ha levato il telefono e mi ha detto mi devi salutare la fidanzata mia ferma ferma staccandomi e mi ha messo il telefono suo era così ormai e devi stare attento li devi fare a tutti li devi fare a tutti se Dio ne guardi non li fa c'è sempre uno che dice perdone a uno stronzo sui social perché non mi ha fatto però non si rende conto che io magari stavo perdendo l'aereo perché l'aeroporto è il punto peggiore per me l'aeroporto è la stazione oppure perdere un treno qualche volta è capitato li fai a tutti poi a un certo punto vedi che quello sta per far partire il treno devi correre come un pazzo non glielo fai e subito si è la mente non hanno il senso della misura del rispetto no c'era più rispetto a quei tempi là eccoci nella nostra regia allora grande disimpegno da modificare come meglio crede questa parete può andare giù benissimo questo era un vecchio chest un vecchio bagno qua la finestra si può chiudere fare un grande lucernario da sopra con una bella luce che scende giù e poi la vasca se la sposta come gli pare venga mi segua altro bel disimpegno con un grande scorcio ma guardi sto scorcio un attimo da qua bella qua la palma venga pronti si e adesso sa dove entriamo entriamo nel punto di chiamante della casa il salotto eh ah ah senta ma non è un po' troppo piccolo piccolo allora non ci siamo capiti signora Sesti scusi come fa il denome lei Marcella Marcella stammi a sentire tu questa casa non la capirai mai se la vedi così com'è tu te la devi immaginare per come sarà hai capito immaginare per come sarà vuoi che te spiego come la vedo io eh allora tu dici piccola allora cominciamo questo via quello abbattuto via eppure questo via ma questo non è un muro maestro è un muro maestro vabbè ma la cosa è del tutto ininfluente perché la cosa importante è avere un grande spazio grandissimo spazio di rappresentanza dove poter vivere la casa cenare invita gente fai cena in piedi hai capito senta però secondo me è un po' troppo buio con solo quella finestra lì non mi ha sottovalutato sta finestra marce questa è un'area di sottovalutare perché molte faccio male vado beccate questo ok oddio che ha preso? niente beccata mia comunque insomma la questione luce secondo me è del tutto ininfluente sai perché? sai perché? perché noi possiamo fare tutte le finestre che vogliamo qua fino a 3-4 e ce le fanno fare? non ho capito scusa ho chiesto se ce le fanno fare ce le fanno fare io conoscono una ditta 3 ditte che in una notte te fanno 4, 5, 6 finestre tutto quello che te pare tu arrivi la mattina col caffè e latte in mano a qua e staglia te guardi intorno e dici ma ando cazzo so a qua e staglia